Lei mi ha detto, tutti abbiamo calcata, ma forse al Signore non le perdono, il Signore perdona tutto, sicuro, ma come non sa se hai detto una ragazza? Il Signore non le perdono, il mondo non esiste, io ho sentito una bolla delito matante, mi dica Signora, lei ha studiato la gregoriana, la pacienza, la pacienza interiore.